Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV Blitz questa mattina intorno alle 9 in Via Guido Monaco, Piazza della Repubblica e Giardini del Porcinà. Il Blitz è stato da parte degli agenti della Polizia di Stato che hanno controllato alcune persone sul posto, poi due sarebbero, usiamo il condizionale, sottoposte a fermo, sarebbero state comunque accompagnate in questura per alcune verifiche. Indubbiamente questa è una zona molto attenzionata da parte delle forze dell'ordine. Poco meno di un mese fa proprio in questa zona venne aggredito e rapinato un minorenne, insomma una cosiddetta zona calda della città, come dicevamo, molto attenzionata. Adesso invece parliamo di trasporti. Oggi è stata una giornata davvero infernale per i pendolari aretini e valdarnesi. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Ancora una mattinata difficile per i pendolari aretini diretti a Firenze. Numerosi ritardi che hanno riguardato i convogli in transito sulla linea che attraversa la provincia. Disagi che arrivano all'indomani dell'audizione congiunta del Comitato Pendolari Valdarno Direttissime del Movimento Consumatori Toscana, che si è svolto martedì in Consiglio regionale presso la Quarta Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità ed Infrastrutture. Abbiamo espresso alla Presidente di Commissione Lucia De Robertis e ai consiglieri regionali presenti, affermano Maurizio del Re del Comitato Pendolari e Armando Manzueto del Movimento Consumatori Toscana, non solo i disagi dei pendolari della linea aretina, ma anche l'attesa e gli auspici per il prossimo futuro. Il riferimento è all'incontro annunciato recentemente dall'assessore ai trasporti Stefano Baccelli tra regione e vertici nazionali di RFI e Trenitalia, previsto per il prossimo 26 marzo a Firenze. Sarà un'occasione importante, sottolineano, per ribadire la volontà e la ricerca di soluzioni per recuperare la puntualità dei treni regionali sulla linea aretina, ma soprattutto per riaffermare la regola nazionale che prevede per le linee ferroviarie sature, come la direttissima, la precedenza dei treni regionali sui treni alta velocità nelle fasce orarie pendolari, cioè nelle ore di punta 6, 9 e 17, 20. Se la regola della precedenza fosse veramente applicata, sarebbe una svolta per i pendolari del Valdarno. Una regola contenuta nel documento prospetto informativo della rete emanato da RFI nazionale ma che non sarebbe mai stata applicata per i treni regionali del Valdarno. Un infortunio sul lavoro è accaduto ad Anghiari intorno alle 16 e 30. È rimasto ferito un operaio di 25 anni che è stato poi trasportato con un'ambulanza della misericordia di Pieve Santo Stefano in codice verde al pronto soccorso di Sansepolcro. Sul posto anche il personale PISL dell'ASL Toscana Sud-Est. Ed è stata una giornata anche di diversi incidenti, tamponamenti anzi incidenti che hanno mandato il traffico cittadino in tilt, accaduto poco dopo le 8, in corrispondenza della rotatoria di Ponte Achiani. Un camion ha perso parte del carico, Ghiaia sul manto stradale e ovviamente la circolazione è rimasta a lungo bloccata. Intorno alle 8 e 30 un tamponamento tra alcuni veicoli in corrispondenza della rotatoria di Viale Don Menzoni ad Arezzo. Anche in questo caso rallentamenti e traffico congestionato. Alle 13 in corrispondenza del semaforo di Via Fiorentina un altro incidente, anche qui traffico completamente bloccato. Infine un incidente stradale alle 13 e 30 lungo Viale Giovanni Amendola. Nei pressi dell'incrocio con Via Fiorentina si è trattato dello scontro tra un camion e un'automobile. Due le persone rimaste ferite e portate in pronto soccorso in codice verde. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e gli agenti della polizia. E allora è stato spesso teatro di incidenti anche la E45, un'arteria davvero molto trafficata ma che ogni volta mette sotto gli occhi davvero delle condizioni, dicono gli automobilisti, inaccettabili. Sentiamo perché nel prossimo servizio. E' una vergogna, tutti gli anni, ogni due mesi usciamo, entriamo, ma come fai? Non si va a camminare. Non c'è pace per la E45 e ancora una chiusura temporanea a Pieve e Santo Stefano per un giunto ammalorato e per un intervento urgente di pavimentazione. Sono 20 anni che faccio questo lavoro e 20 anni che ci sono per cause di lavori sempre deviazioni e secondo me non cambierà mai la situazione. L'ANAS ha disposto l'uscita obbligatoria allo svincolo Pieve e Santo Stefano Sud e rientra allo svincolo Pieve e Santo Stefano Nord in direzione nord, circa 5 km di tracciato chiuso. Ti allunga tutti i percorsi, tutti i viaggi che hai programmato. Tant'è sto andando all'aeroporto e ho un po' fretta. Diventa un vero problema. Sul posto squadre ANAS e forze dell'ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile, probabilmente nelle prossime ore. Bruttissima da cancellare, soprattutto i ponti. Svincoli chiusi ma anche buche profonde, Manto ha dissestato. Viaggiare in E45 rasta così una vera e propria impresa. Possiamo dire che è più una buca che un asfalto. Le condizioni sono pessime per noi che viaggiamo quotidianamente su queste strade. Nel gennaio 2019 ad essere chiuso per rischio crollo il viadotto Puleto, un blocco totale che provocò forti disagi spezzando di fatto la circolazione sull'Appennino. A processo con l'ipotesi di reato di omessa manutenzione finirono due funzionari, ma si parla già di prescrizione. Sempre nel tratto a retino delle 45 nel febbraio 2018 crollò invece una piazzola di sosta all'altezza di Pieve e Santo Stefano. A breve dovrebbe essere riaperta. Lavori di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale determineranno la chiusura del tratto compreso tra Rezzo e Valdarno verso Firenze e Bologna della A1 Milano-Napoli. Tutto questo accadrà dalle 23 di sabato 23 marzo alle 6 di domenica 24 marzo. E adesso la politica Paolo Brandi ha sciolto tutte le riserve, si candida a sindaco nel comune dove è stato ovviamente primo cittadino Castiglion-Fiorentino e attende adesso il confronto con l'attuale sindaco Mario Agnelli. Quando uno sceglie di presentarsi per poter rappresentare il proprio comune è giusto che si ricordi degli spiriti degli antenati, un po' come facevano gli antichi romani. Per cui stamattina ho voluto compiere questo gesto di rispetto nei confronti dei caduti castiglionesi ma soprattutto di auspicio per un mondo di pace. Ha deposto un mazzo di fiori con i colori della pace al monumento dei caduti e poi ha sciolto le riserve. Paolo Brandi si presenta come candidato sindaco di Castiglion-Fiorentino. Due erano le condizioni che io avevo posto. Una che ci fosse una lista unitaria e una lista unitaria c'è e quindi sarà come dire uno scontro a due per quanto riguarda il comune di Castiglion-Fiorentino. L'altra è che fosse una lista fortemente rinnovata e anche questa condizione mi pare in gran parte soddisfatta. Per cui ho sciolto come si dice la riserva e scendiamo in campo. L'ex sindaco rappresenterà così l'alternativa all'attuale governo della cittadina della Valdichiana, Aretina. Quello che mi ha spinto in modo particolare a impegnarmi in questa difficile campagna elettorale sono i numeri, i numeri che parlano più delle parole. Castiglion-Fiorentino negli ultimi anni ha perso qualcosa come 83 imprese, ha perso qualcosa come 1000 abitanti, quindi sono segnali non belli, occorre un'inversione di tendenza, occorre darsi da fare perché questo comune ritorni al centro della Valdichiana. Un tempo era il polo produttivo della Valdichiana, oggi non lo è più, dobbiamo investire di più su occupazione, lavoro, formazione, tutte quelle cose che in passato hanno consentito a Castiglion-Fiorentino di primeggiare. Una buona notizia sotto il profilo del lavoro, parliamo del Valdarno, sentiamo allora il servizio di Chiara Sadotti. Ancora un'incursione in Toscana per la Capri Holdings, già presente a Pistoia Scandici il gruppo americano, a capo dei brand a Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, ha infatti rilevato attraverso la sua controllata il calzaturificio Sicla di Levane in provincia di Arezzo, fondato da Enzo Donnini nel 1979. La famiglia ha sempre gestito l'azienda e continuerà a farlo anche in futuro, specifica una nota. Sotto la proprietà di Capri Holdings, Sicla mira mantenere l'eccellenza dei servizi offerti dal team di artigiani di talento e dei prodotti realizzati. Nel 2022, ultimo dato disponibile, il fatturato del calzaturificio è stato di 52 milioni di euro, con oltre 270 dipendenti. Non si tratta della prima acquisizione toscana per Capri Holdings. Nel 2019, infatti, è entrata in possesso di Alberto Gozzi, atelier e calzaturificio pistoiese. Inoltre, a gennaio, Gimiciu ha comunicato l'espansione nella zona di Scandicci. Il Teatro Petrarca e il Teatro Signorelli di Cortona sono tra i dieci teatri toscani dichiarati monumento nazionale. A stabilirlo è stata la Commissione Cultura del Governo, che in seguito all'ultimo voto ha siglato il testo di legge che assegna il prestigioso riconoscimento anche alle due strutture aretine. Il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo della Commissione Cultura, Alessandro Amorese, ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti quanto per il nostro Governo la cultura sia un bene alto da promuovere e sostenere in ogni sua peculiarità, anche e soprattutto valorizzando i patrimoni che ogni territorio può vantare. Una nuova casa editrice, è sempre anche questa una bella notizia. Sentiamo quale nel prossimo servizio. Tutti hanno delle radici, poi gli alberi crescono e vanno anche un po' oltre le proprie radici. È la nostra storia da sempre, da Woodworm e tutto quello che abbiamo fatto. Questa è la nostra terra, siamo molto fieri, molto legati. Poi andiamo un giro per il mondo e ritorniamo sempre qua. Quindi è coerente con quello che abbiamo sempre fatto, tutto qua. Il progetto è nato da Rezzo, nelle stanze dell'etichetta discografica Woodworm, ormai punto di riferimento del panorama musicale italiano che pubblica l'album di Malika Yan, la rappresentante di lista del Zen Circus e molti altri. E da adesso è nata anche Woods, una nuova casa editrice che ha debuttato al Book Pride di Milano con tre titoli. È una casa editrice che si occuperà di tanti temi, che cercherà di dare voce a tante istanze, sarà sicuramente molto attenta ai temi della giustizia sociale, sarà attenta ai temi dell'ambiente, sarà attenta anche alle nuove proposte della letteratura italiana, ma anche magari a della bella saggistica che viene anche da altre parti del mondo. Le caratteristiche principali sono quelle di poter diventare uno spazio vivo, presente, in cui lettori non solo trovano dei libri interessanti, ma in cui possono anche riconoscersi. Quindi il catalogo della casa editrice è pensato come se fosse una sorta di ecosistema in cui ogni libro rappresenta un'esperienza che i lettori possono fare, a partire dai primi tre, come Steve Spielberg, Hiroshi Shiguro e Valentina Barile, che rappresentano tre dimensioni umane con cui ci si possono fare molte domande. Letteratura, cinema e comunicazione, un trittico di eventi per il quarto e ultimo fine settimana del Festival dello Spirito. La rassegna dedicata all'espressione, all'annuncio della parola nelle sue molteplici forme, giungerà appunto all'epilogo il sabato prossimo 23 marzo alle 16.30, con un convegno dal titolo Etica della comunicazione, esperienze e testimonianze di spiritualità. Nel suggestivo scenario della Basilica di San Francesco avrà tra i relatori Vincenzo Morgante, direttore di TV2000, e Piero Damasso, caporedattore del TG1 della RAI. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e arrivederci.